Noi proseguiamo con un altro tema, un altro nodo che vogliamo sciogliere, un tema cruciale. Come cambia il lavoro? È quello che ci domandiamo tutti i giorni sul nostro posto di lavoro. Quali competenze per il futuro? Ne parliamo innanzitutto con il direttore del giornale di Vicenza, Marino Smiderle. Bentrovato direttore. Lo dicevamo anche adesso dietro le quinte, è un po' la domanda che ci poniamo, la domanda anche operativa che ci poniamo tutti i giorni. Come sta cambiando il nostro lavoro e possiamo dire che per quanto riguarda la nostra professione siamo molto in una fase di cambiamento e di evoluzione. Diciamo che nella nostra professione stiamo in cambiamento da diversi anni perché stiamo assistendo a continue evoluzioni. L'intelligenza artificiale è soltanto l'ultima ma se pensi che siamo passati dal web in tutte le sue declinazioni, dai social. Quindi informarsi è diventata, abbiamo mille piattaforme, però informare il mestiere è sempre quello. Si tratta solo di usare piattaforme diverse. L'importante secondo me è che bisogna far capire ai giovani che devono informarsi. Questo è il segreto. Ricordo quello che diceva Lepri, il direttore storico dell'ANSAC che ha cresciuto generazione di giovani giornalisti a Fiuggi, quasi centenario proiettato in avanti, diceva rendiamoci conto che per esempio cambia il modo di leggere. Cambia a tutte le età, non è un fatto generazionale. L'abitudine di leggere in orizzontale è quasi, non dico del tutto, però è stata affiancata, diciamo non soppiantata, dall'abitudine di leggere in verticale scendendo. È solo uno dei punti che sono cambiati in questi anni. Ma io credo che, io purtroppo ho un'età che se non leggo sulla carta mi sembra di non ritenere. Quando preparavo gli esami all'università ho ancora la memoria grafica di dove sottolineavo di quanto spesso era il libro, quindi diciamo la carta mi aiutava anche a fissare determinati concetti. Scorrendo su uno schermo ho come la sensazione che poi scorrendo vada via anche quello che ho letto. Ma è una sensazione mia di boomer e quindi non è che faccia testo. Però invito i giovani, quando leggono, di soffermarsi perché spesso si fermano qui 160 caratteri e pensano di essere informati quando in realtà anche informarsi è un certo sacrificio ma si diventa cittadini migliori. Facciamo un passo avanti perché ci stanno per raggiungere gli ospiti che parleranno con te di questo argomento. Se sei d'accordo inizierei a chiamarli. Ci raggiungano sul palco dunque per analizzare il tema del lavoro che cambia la Coordinator for Skills Demand Analysis European Training Foundation, Francesca Rosso. Ben trovata Francesca. Il co-fondatore di Base Italia, Marco Bentivogli. Ben trovato. Co-fondatrice e presidente di Arca Partners, Donatella Pinto. Ben trovata. Coordinatore editoriale di Tutto ITS, Gianluca Dotti. Ben trovato Gianluca. E last but not least, direttore di Zip Agency, Nicola Voltolin. Marino ti passo la palla. Grazie, grazie. Allora, come cambia il lavoro, le competenze per il futuro? Hai detto niente, è un vasto programma, direbbe qualcuno. Perché il mondo del lavoro in Italia sta attraversando una serie di trasformazioni significative influenzate da diversi fattori che spaziano dall'evoluzione tecnologica alla globalizzazione economica. In questo contesto emergono diverse dinamiche che delineano un panorama professionale in continua evoluzione. Anzitutto l'automazione e l'introduzione delle nuove tecnologie stanno ridefinendo il concetto stesso di lavoro. Stessi settori come l'automazione industriale, l'intelligenza artificiale, la robotica stanno sostituendo alcune mansioni tradizionali. Mi fermo qui con questa pappardella per dirvi che in realtà questa pappardella qua non l'ho scritta io, ma me la sono fatta scrivere dall'intelligenza artificiale. Quindi teoricamente oggi potrebbe essere qui al posto mio un robot che leggerebbe queste cose sussumendole dalla mole di dati che c'è in rete. Quindi l'intelligenza artificiale in questo caso potrebbe sostituire a me questo tipo di professionalità. Io ritengo ancora sia impossibile, vorrei uscire da questo tavolo dimostrando che è impossibile. Però in realtà questa intelligenza artificiale è dimostrando anche che invece questa intelligenza artificiale possiamo usarla e renderla uno strumento utile nei vari campi. Questo colpo di teatro proprio per far capire l'impatto che c'è di questa intelligenza artificiale. Io comincerei subito con Francesca Rosso che di lavoro si occupa per la fondazione europea, per la formazione professionale, andando in giro per vari altri paesi d'Europa. Ecco, ma come dall'altra parte, in questi paesi che sono spesso dei serbatoi, dove noi andiamo a prendere forza lavoro, che in questo momento è una materia prima fondamentale e scarsa per l'Italia, in quanto molti imprenditori si lamentano che non c'è. Dicevo, in questi paesi, tanto Mario spiega cos'è la fondazione europea, e in questi paesi come interpretano la rivoluzione tecnologica, in particolare con un occhio all'intelligenza artificiale. Grazie mille, intanto grazie mille anche agli organizzatori per avermi invitato oggi. È un onore essere qui con voi oggi pomeriggio. Grazie anche per la domanda e una piccola precisazione. La European Training Foundation è un'agenzia dell'Unione Europea, siamo basati a Torino e ci occupiamo delle politiche estere dell'Unione Europea. Ci occupiamo in particolare di politiche del lavoro e dell'istruzione nei paesi che circondano l'Unione, quindi non membri. E perché questi paesi sono così rilevanti per l'Unione Europea? Intanto perché quello che succede nei paesi a noi vicini influenza anche la nostra politica interna, e ovviamente c'è anche una questione di sicurezza, di prosperità economica. E poi come ricordavano questa mattina altri relatori, c'è una nuova geopolitica. Dopo l'aggressione russa in Ucraina, diciamo che la geopolitica globale, in particolare la geopolitica legata all'Unione Europea e alle questioni di allargamento, è enormemente cambiata. Se prima dell'invasione dell'Ucraina l'allargamento era un file, per così dire, un pochino congelato, permettermi di dirlo, adesso è diventata la priorità. E se l'allargamento diventa la priorità non solo per i Balcani, ma anche con altri paesi più ad est, capirete bene che questi paesi, se hanno una prospettiva di aderire in tempi più o meno brevi all'Unione Europea, avremo poi un tema di mercato interno, di mobilità delle persone, di mobilità di capitali, e quindi ci sarà un'integrazione, un'interazione sempre più prominente. Quello che succede in questi paesi è molto vario. In questi paesi in cui noi lavoriamo, che vanno dal Marocco al Medio Oriente, i Balcani, la Turchia, l'Asia centrale, l'Europa centrale, sono paesi che hanno una storia enormemente diversa. Alcuni sono paesi in via di sviluppo, propriamente detti, altri sono paesi in transizione, in transizione economica, ovviamente post-socialismo. Hanno ovviamente anche delle strutture demografiche molto diverse, nel bacino sud del Mediterraneo c'è una popolazione giovane, 60 milioni di giovani, e di questi 60 milioni tra il 25 e il 40% sono disoccupati, o hanno dei lavori che non sono in linea con le loro qualificazioni e le loro competenze, quindi fanno dei lavori che richiedono competenze, qualificazioni minori rispetto a quelli che hanno. Ed è ovvio che questa è una svalorizzazione del capitale umano in questi paesi. Una cosa da cui vorrei partire, che vorrei sottolineare, è che nell'Unione Europea il tasso di occupazione non è mai stato alto come in questi anni, in questi ultimi mesi, quasi il 75% di tasso di occupazione. Ma allo stesso tempo le imprese ci parlano di uno shortage di competenze, l'abbiamo sentito anche prima, non riescono a trovare i profili di cui hanno bisogno. E non parlo solo di profili altamente specializzati, di persone con una qualificazione accademica, terziaria, ma anche dei tecnici, tecnici specializzati che non ci sono sul mercato. E quindi questa mobilità, questa, diciamo così, corsa verso i talenti, in realtà diventa una vera e propria corsa verso le risorse umane in generale. Quindi a tutti i livelli. C'è una grande competizione. C'è una grande competizione. L'Italia riesce ad essere attrattiva in questo... A che punto siamo nella classifica di questo campionato di formazione? Allora, in realtà io credo che parlare di Italia da sola è un pochino riduttivo. La Commissione europea solo due settimane fa ha pubblicato un nuovo pacchetto di misure sulla mobility partnership per proprio cercare di incitare o sostenere una mobilità maggiore dei cervelli, delle competenze con i paesi che attorniano, che circondano l'Unione europea. Secondo me l'Italia deve posizionarsi ovviamente in questa corsa insieme agli altri paesi dell'Unione europea. Ovviamente come tu mi insegni la questione migratoria è una questione altamente politica e quindi passa in primis anche per la politica prima che per l'economia. Una sola cosa e poi magari abbiamo tempo di approfondire dopo quello che noi vediamo attraverso i nostri studi nei paesi in cui lavoriamo è che in realtà i paesi che attornano l'Unione europea, che circondano l'Unione europea non sono solamente dei paesi a traino, non sono dei paesi che seguono solamente quello che sta avvenendo all'interno dell'Unione europea, negli Stati Uniti o in Asia, sono anche paesi che hanno una potenzialità di innovazione abbastanza forte nei diversi settori economici. Ed ecco che anche in questi paesi è in atto una transizione digitale in primis con una grande richiesta per profili con competenze digitali a tutti i livelli quindi non solo per il coding, diciamo così, ma anche per le competenze digitali di base e poi anche legate alle tecnologie verdi. E quando parlo di tecnologie verdi non mi riferisco solo ad alcuni settori economici tipicamente della famiglia del green, quindi l'energia, ma mi riferisco anche ad altri settori economici per esempio l'agricoltura, che sta sempre più diventando un'agricoltura sostenibile ma anche alle costruzioni, quanto per esempio al settore dell'automotive che abbiamo studiato abbastanza in dettaglio in Turchia. E questo fa sì che vengano richieste delle competenze anche trasversali tra i vari settori economici, che è una cosa di cui poi magari dopo possiamo parlare un pochino di più. Grazie Francesca Rosso. Passiamo a Marco Bentivogli, che di lavoro qualcosa capisce essendo stato anche alla guida della FIM CISL per anni e adesso è cofondatore di Base Italia che è... intanto mi piace leggere le motivazioni da cui parte il progetto di Bentivogli dice che l'Italia deve tornare a crescere la crisi che il nostro paese sta attraversando non è solo economica è anche civile, sociale e morale. La stagnazione della produttività, che le statistiche documentano va di pari passo con un declino più generale del paese che vediamo nella demografia, nel capitale umano e sociale nella qualità delle classi dirigenti. Ecco, la domanda che le faccio alla luce di questo, anche lì, obiettivo importante le grandi trasformazioni che stanno cambiando appunto il lavoro potranno aiutare a superare questa fase o rischiano di aggravare la situazione? Ma innanzitutto le grandi trasformazioni vanno interpretate come delle evoluzioni questo è il grande rischio è immaginare che ci sia questo mantra per cui green, digital e qualcuno ci mette anche fortunatamente la demografia che sposta più di tutto il quadro noi abbiamo questo tasso di occupazione in Italia che non è mai stato così alto e oltre il 60% in realtà stiamo vedendo che sta calando la popolazione attiva per cui abbiamo sempre meno popolazione in età da lavoro e per questo ci sono meno disoccupati non è per forza per politiche espansive o che sono di sostegno, di aiuto alla crescita le tre trasformazioni vanno prese insieme sono trasformazioni e transizioni che riguardano appunto il digitale la trasformazione climatico ambientale e quella demografica quella digitale sta spostando letteralmente i connotati del lavoro il digitale scongela lo spazio e il tempo di lavoro e per questo ci sono nuove forme di organizzazione del lavoro lo smart working eccetera attenzione quando si parla di smart working perché il problema è come interpretiamo queste innovazioni se continuiamo a pensare che siano tecnologia facciamo gli errori che si sono stati fatti sin qui lo smart working ad esempio è un'idea nuova del lavoro e dell'impresa è una dimensione completamente nuova non è il lavoro da casa se io penso allo stesso lavoro, le stesse gerarchie lo stesso senso, gli stessi contenuti spostati semplicemente a casa faccio un telelavoro mal organizzato e infatti lo dimostrano i dati dell'osservatorio del Politecnico di Milano quando è fatto così lo smart working innanzitutto non è smart working ma poi non dà risultati né sulla produttività né sul benessere delle persone è un capolavoro il digitale fa un'altra cosa erode le mansioni rutinarie ripetitive noi se immaginiamo questo aspetto già accadeva con la robotica avanzata tutti quanti quando dico questa cosa pensano al lavoro operaio sostituito dai robot in realtà il digitale sostituisce in maniera molto più robusta e soprattutto le AI le mansioni ripetitive impiegatizie cioè la grande trasformazione e erosione del lavoro riguarderà in particolar modo i white collar, gli impiegati questo inizia a preoccupare perché anche i lavori che pensavamo insostituibili in realtà stiamo vedendo che la corsa è talmente rapida e la mutazione appunto dei connotati del lavoro della contrattualistica della natura del lavoro stanno sollecitandoci anche a una capacità di immaginare le ulteriori tendenze non solo a un adattamento a questo aspetto anche perché dal punto di vista sindacale mi permetto di interrope visto che approfitto della sua competenza diciamo passata crea anche credo un diverso approccio da parte perché che tipo di contratti facciamo adesso vedo infatti che la la tensione la diversità di opinioni di vedute tra le diverse sigle sindacali sta aumentando e anche a causa di questo a causa dell'interpretazione di quello che sarà il lavoro io credo che il cambiamento culturale sia trasversale generalizzato imprese e sindacate bisogna alzare il livello delle relazioni industriali andare verso la partecipazione verso forme che in maniera più semplice più autentica accompagnino l'innovazione e i cambiamenti dal punto di vista sindacale c'è una mutuazione fondamentale il sindacato non è più solo il soggetto che guarda le spalle ai lavoratori li protegge dal licenziamento il sindacato deve avere un ruolo lo abbiamo fatto nel 2016 una delle ultime cose che ho fatto nel contratto dei metalmeccanici promuovendo la persona dentro il lavoro sia di ruolo sia di competenza il diritto soggettivo alla formazione sottoscritto in quel contratto purtroppo non ha gemmato nel resto della contrattazione ma è il vero diritto al futuro se con questo tasso di sostituzione delle tecnologie di riferimento che abbiamo negli ambiti produttivi e di impresa non abbiamo un diritto soggettivo cioè non una semplice elargizione della decisione dell'azienda che quando decide coinvolge alcuni lavoratori alcune lavoratrici non tutti dentro una strategia non neanche comunicata e condivisa ecco quella non è la formazione la formazione è quello che sta qualificando le imprese molti ragazzi e ragazze finalmente vanno nelle aziende dove sanno che non saranno chiusi appunto in un feudo che si ripara dall'innovazione ma saranno dentro un luogo aperto all'innovazione e saranno soggetti essi stessi i protagonisti di queste innovazioni per cui è chiaro che da questo punto di vista il ruolo del sindacato muta radicalmente muta quello delle direzioni aziendali le vecchie gerarchie le strutture organizzative basate ancora purtroppo la stragrande maggioranza su comando e controllo non funzionano più il comando e controllo è la struttura organizzativa gerarchica di derivazione militare ecco in guerra penso sia necessario il comando e controllo in un lavoro in cui immaginate diminuisce l'attività rutinaria ripetitiva e aumenta quella ingaggio cognitivo cioè a contributo umano il controllo non solo è inutile è dannoso soffoca al contempo produttività e benessere è un bellissimo capolavoro io l'ho scritto anche recentemente ha un solo compito il controllo il rifornimento narcisistico del capo quello che serve invece nel lavoro serve l'investimento autentico nella libertà responsabile delle persone perché abbiamo costruito tante cose a condimento della contrattazione il welfare tante altre cose no? in realtà se scaviamo ancora la contrattualistica del lavoro è basata sullo scambio prestazione risultato e salario il lavoro non è più quello è qualcosa di molto più impegnativo anche dal punto di vista del senso per cui bisogna ricostruire gli ingredienti della nuova contrattualistica del lavoro poi parliamo del suo libro Licenziamo i padroni che è stuzzicante già dal titolo poi ne parliamo invece volevo parlare con Donatella Pinto che è cofondatrice e presidente di Arca Partners che è un'azienda di consulenza e formazione aziendale con specifiche competenze e conoscenze in vari settori in particolare quello manifatturiero ecco perché nella ricerca di competenze bisogna anche fare il punto del rapporto tra scuola e mondo delle aziende poi ne parleremo anche con ancora ma non si può pretendere che la scuola prepari direttamente che arrivi il ragazzo direttamente fatto per il mondo del lavoro però c'è sempre un gap che qualcuno dice troppo grande tra quello che si insegna la materia di base e poi quando arriva all'interno del mondo del lavoro ecco a che punto siamo dalla sua esperienza vedendo un po' questa con la formazione allora diciamo che io posso parlare di esperienza avendo visto l'azienda dall'interno avendo fatto questo messaggio di capore personale per più di 35 anni quindi alla fine le aziende le conosco bene da dentro adesso le aiuto da fuori diciamo così basandosi sulla mia esperienza allora è chiaro che c'è un naturale gap tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro questo gap è sempre più evidente siamo un po' indietro su questo un po' perché la scuola non sta preparando già per le competenze attuali molto spesso se noi pensiamo che in ogni caso già si sa che il 65% dei bambini degli elementari faranno un lavoro che non esiste e già quelli che adesso sono elementari non hanno neanche le competenze li stiamo preparando per le competenze del lavoro che c'è oggi quindi da questo punto di vista c'è un problema in generale sociale in cui la scuola è un po' indietro rispetto all'evoluzione della società da questo punto di vista le aziende secondo me hanno un ruolo però quindi il ruolo delle aziende può essere quello di valorizzare le competenze e sono d'accordo con il collega che poi le aziende sono cambiate profondamente in questi ultimi anni e profondamente si valorizza di più la competenza delle persone e queste competenze delle persone devono essere portate anche fuori e in questo modo creando questo ponte tra mondo del lavoro e mondo della scuola e mondo del lavoro delle aziende si può veramente integrare un percorso che altrimenti ci metterà troppo tempo ad arrivare a creare quei lavori che servono facevamo l'esempio prima lo diceva Francesca in questo momento manca ci sono 4 aziende su 10 che non trovano le persone che servono ma non stiamo parlando di specializzazioni estremamente complesse parliamo di manutentori noi ad esempio stiamo aiutando WeBuild che è quella del ponte di Genova a creare il lavoro per 5.000 persone che non ci sono perché quelle competenze in Italia non ci sono e come l'abbiamo fatto creando l'academy di WeBuild portando fuori le competenze di WeBuild e dandole un pezzo al mercato e formando i giovani con un pezzo di quelle competenze per prepararli ad entrare in azienda quindi è questa visione secondo me più moderna più dinamica di valore che crea un dialogo nuovo tra un mondo che si è sempre un po' guardato troppo dentro che è il mondo delle aziende per creare valore per la società e aiutare un po' questa transizione e stiamo parlando dello stato attuale di quello che manca oggi non parliamo di quello che non sappiamo ancora di cosa serve per il futuro però vedevo che tutte in questo periodo gran parte delle aziende che conosco si stanno creando l'academy interna grandi piccole comunque creano quindi si crea anche lì una nuova professione perché evidentemente tutte le imprese devono creare una piccola scuola proprio per come dire selezionare addirittura proprio cercano di rubare l'uno con l'altro giovani che escono dagli studi tecnici per esempio ecco cosa consiglierebbe a un'impresa che vuole costituire appunto un'academy come si fa a renderla efficace e attrattiva per i giovani e appunto che abbia una funzione concreta ma guardi le academy aziendali hanno due valenze molto importanti la prima valenza è in primo luogo verso l'interno perché perché aiuta le persone che hanno competenze a rendersi conto che hanno delle competenze importanti che sono spendibili sia nei confronti dei colleghi pensiamo al fatto che ci sono cinque generazioni insieme al lavoro oggi quindi più giovani con i più anziani e spesso anche i giovani ha qualcosa da dire più anziani in questo mondo digitale in termini di competenza quindi il primo tema è come io aiuto le mie persone che hanno la competenza a esprimerle a solidificarle e trasmetterle quindi e trasmettere è anche molto ingaggiante crea molta motivazione tutti quanti noi ci piace se abbiamo cose da dire dirlo e questo è secondo me il primo effetto positivo dell'academy in azienda il secondo effetto è quello che dicevo prima andare fuori quindi portare queste competenze e crearle nel territorio coinvolgendo le scuole lavorando con i giovani portando fuori non solo la competenza tecnica di quello che si sa ma la competenza e anche i valori di come si sta in azienda di cosa vuol dire impegnarsi di cosa vuol dire in qualche misura lavorare in un contesto organizzato come si fa questo occorre una strategia una visione occorre investire non sul domani ma sul dopodomani occorre avere commitment avere visione e voglia di creare qualcosa che abbia un valore sociale a prescindere dall'immediato grazie Gianluca Dotti che è il coordinatore editoriale di tutto ITS gli ITS parlo per la provincia di Vicenza le imprese praticamente stravedono per gli ITS è il serbatoio in cui tutti vogliono attingere quindi vorrebbero costruire vorrebbero istituire un ITS in ogni comune chiaramente questo non è possibile ma dal tuo osservatorio privilegiato in cui hai sotto mano praticamente ITS intanto volevo chiederti che progresso hanno fatto come numero perché da quel che vedo anche nella mia provincia sono in continua espansione e poi che tipo di richiesta a quali giovani si rivolgono perché questa è anche la questione del tema grazie anzitutto buonasera a tutti e a tutti allora gli ITS istituti tecnologici superiori che hanno cambiato nome poi l'estate scorsa perché prima si chiamavano istituti tecnici superiori sono stati riformati anche in in parallelo a una generosa ondata di finanziamenti attraverso il PNRR sono un ecosistema in questo momento in grande espansione parliamo di 130 istituti qualcosa di più ma veramente stanno spuntando come funghi come si dice in questi in questi ultimi mesi e stanno crescendo anche come numero di corsi quindi offerta formativa quantitativa ma anche come tipologia è proprio di alcuni giorni fa un decreto attuativo che ha espanso il numero di aree tecnologiche degli ITS dalle 6 precedenti alle 10 che sono diventate includendo digitalizzazione e sostenibilità come filo conduttore delle varie aree a oggi tutto sommato parliamo ancora di una nicchia perché sono tra le 15 e le 20 mila persone che vengono iscritte ogni anno basta pensare per dare un numero guardando appena fuori dai nostri confini nazionali che in Germania nell'equivalente degli ITS tedeschi ogni anno ci sono circa 800 mila ragazze e ragazzi iscritti quindi non solo esiste sicuramente un gap di competenze tra le aziende quello che le aziende cercano e quello che gli studenti in uscita dalla scuola secondaria superiore hanno e quindi la necessità di percorsi di formazione esiste anche un gap rispetto ai nostri vicini di casa che hanno una tradizione anche di lungo alcuni decenni sulla formazione tecnologica superiore che hanno fatto sì che questo tipo di percorsi sia diventato davvero sistemico non solo a livello istituzionale ma anche a livello culturale cioè banalmente in Italia in questo momento abbiamo ancora il tema della confusione tra ITIS quindi le scuole tecniche secondarie e gli ITS istituti tecnologici superiori e c'è il tema di fare comunicazione di raccontare questo tipo di ecosistemi anche a chi appunto non li conosce anche insomma in queste settimane noi come tutto ITS oltre a fare informazione e giornalismo sul mondo di questi istituti ci stiamo occupando di capire qual è la consapevolezza pubblica e la conoscenza di questi percorsi e diciamo che c'è ancora molto da fare poi le aziende invece li conoscono molto bene tanto è vero che raramente una studentessa sono studenti iscritti a un ITS arriva a fine percorso senza essere stato chiamato o invitato dalle aziende del territorio e dei vari distretti addirittura poi racconto quello che succede da noi negli istituti tecnici invece l'ITIS diciamo quelli superiori molto spesso vorrebbero anche arrivare agli ITS ma in realtà le aziende vanno a prenderseli prima per cui addirittura c'è quasi una barriera all'ingresso non perché no ma perché li vogliono proprio in questa congiuntura particolare c'è anche una fame di tecnici diciamo in questo caso che poi magari rischiano di andare a diminuire quello che è il serbatoio per DTS non so se è una cosa che può sì molte professioni soprattutto tecnologiche stanno evolvendo molto in fretta perché cambiano banalmente gli strumenti i macchinari le tecniche del lavoro quotidiano quindi c'è un tema di evoluzione rapida della professione e quindi anche della necessità sia da parte delle aziende di acquisire queste competenze sempre nuove sia da parte dei giovani di riuscire poi a fare dei percorsi che rapidamente sbocchino verso il mercato del lavoro un vantaggio sicuramente degli ITS è la lunghezza del percorso perché parliamo di due anni in cui con molta formazione pratica molti tirocini attività in azienda la ragazza e il ragazzo arriva a fine percorso con un know-how molto forte e la possibilità da parte dell'ITS ogni anno di rimodulare i propri corsi e percorsi in base alle novità tecnologiche in arrivo quindi accorciamo a due anni il tempo tra l'ideazione di un percorso e l'avere delle persone pronte ad entrare in azienda con quelle competenze per queste caratteristiche dell'ITS di essere pronti proprio ad accogliere le novità le innovazioni e proporre anche una formazione devo dire diventano un'offerta formativa molto appetibile per i giovani parliamo invece con Nicola Voltolin che è il direttore di Zip Agency l'agenzia chiamiamola di marketing digitale del gruppo Atesis che prima parlavamo non possiamo neanche più parlare di nuova e nuova professione questa è una professione vecchia quasi sei entrato come nuova professione siamo già alla professione vecchia a parte le battute come hai notato il cambiamento l'approccio della clientela quando viene da te e chiede determinati servizi anche lì credo che di mese in mese cambiano le esigenze perché appunto si fa faticare a star dietro a quelle che sono le continue innovazioni chiaro grazie per la domanda Marino buonasera a tutti anche da parte mia effettivamente sì viviamo in un paradosso quello che facciamo noi è sempre stato visto come qualcosa di molto avvenirista e fantascientifico in realtà non c'è nulla di più anacronistico di chiamare un social media manager una professione del futuro è qualcosa che fa inevitabilmente parte del nostro quotidiano quello che è cambiato è la vastità di canali di comunicazione che abbiamo a disposizione e la necessità di avere competenze sempre più trasversali nel combinare quello che è un approccio creativo e quello che è un approccio tecnologico sono due filoni che tendenzialmente hanno sempre vissuto grande antagonismo esiste la creatività esiste il nerd che scrive codice tutto il giorno in realtà credo che il vero vantaggio della comunicazione e anche della formazione rispetto alla comunicazione sia proprio la convergenza tra queste due aree quella di sviluppare la creatività in funzione della tecnologia e sviluppare la tecnologia in funzione della creatività in questo quindi credo che il mercato del lavoro e delle competenze sia cambiato ci sono sì sempre più competenze del futuro non tanto professioni del futuro e in un panel oggi si parlava dell'importanza di sapere imparare e questo credo sia davvero il vantaggio più concreto che in parte forse emerge anche degli interventi dei miei colleghi con il vantaggio che probabilmente nella comunicazione nella comunicazione digitale le aule all'interno delle quali si può imparare sono tante non sono solo quelle scolastiche non sono solo quelle all'interno delle aziende il sapere imparare può essere ulteriormente spacchettato perché l'apprendimento do it yourself è una cosa che chiunque può decidere di percorrere nel confrontarsi con strumenti tecnologici quello che dico sempre è che fortunatamente ho deciso di lavorare in questo settore e non fare il chirurgo perché avrei fatto fatica ad esercitarmi nella mia cameretta invece nel fare i primi siti internet nel fare le prime grafiche mi esercitavo nella mia cameretta ed è un vantaggio non indifferente quindi credo ci sia un grosso vantaggio di accessibilità delle informazioni che però porta con sé un grande dovere anche formativo da parte di chi magari questo lavoro lo conosce meglio che è aiutare soprattutto le persone più giovani a saper scegliere a saper distinguere perché in questa sovrabbondanza di informazioni di canali di percorsi formativi di guru formativi che sono un grosso pericolo la capacità di saper scegliere saper distinguere le buone informazioni dalle cattive informazioni credo sia davvero una cosa molto importante e anche quello che raccontava Gianluca va un po' in questa direzione cioè avere un'autorevolezza anche da parte del formatore che riesca a rendere sempre più autorevoli queste informazioni perché poi tutto questo in qualche modo si riverbera in tutto il mercato del lavoro scusami ma poi i candidati giovani che magari tu esamini per poter sono quelli che poi molto spesso credo possono portare anche loro qualcosa di nuovo che tu addirittura non sai perché molto spesso io parlo nel mio lavoro giornalistico io ho i giovani bravi che mi propongono delle cose che io sono vecchio e magari non percepisco ma che vedo che hanno l'intuizione bisogna anche un attimo lasciare la briglia sciolta e cercare di aprire a queste novità perché è un mestiere in continua evoluzione in particolare il tuo quindi tra i giovani che hai sotto mano che vengono a proporsi noti questa fase propositiva guarda Marino io faccio sempre una domanda credo pessima e cattivissima durante i colloqui fortunatamente ne faccio tanti soprattutto in questa fase perché stiamo crescendo molto e generalmente l'ultima domanda che faccio è raccontami un'ultima cosa che hai scoperto ed è una domanda molto bruciapelo e molto brutta in cui non si sa mai quale può essere la reazione se la reazione è spararla grossa se spararla piccola c'è chi mi racconta di aver imparato a fare una carbonara pazzesca e per me è una delle risposte più belle del mondo però è chiaro che in questo lavoro ma credo in tutti quanti i lavori la capacità di essere molto affamato di informazioni di continuare a cercarle soprattutto come dici tu in un mondo che è proprio sottoposto a continue novità a nuovi strumenti a nuove tecniche a nuove tecnologie per me è un valore fondamentale ed è una cosa che sicuramente cerco grazie Nicola torniamo a Francesca Francesca Rosso parlavamo prima di shortage di competenze e prima parlavamo anche approfittando del rapporto con paesi extraeuropei in cui in questo momento il mondo è diviso in due nel senso tre l'Europa chiamiamolo così occidente sviluppato che ha un paese un continente di vecchi in particolare l'Africa sotto che è un continente di giovani quasi a proporzioni esattamente rovesciate con l'Europa che chiede lavoro e non ne trova e l'Africa invece che cerca di svilupparsi in un contesto politico geopolitico complicato ecco non è che si può cercare di far dialogare questi e vedere un po' di risolvere i problemi di entrambi non so che è una questione più politica magari che economica però avendo a che fare con paesi particolari di questo tipo forse ha un'idea chiara a riguardo sì intanto vorrei dare tre spunti di riflessioni il primo concentrato sul ruolo degli individui quindi la centralità dell'individuo nella discussione economica anche relativa al mondo del lavoro il secondo il tema delle competenze e il terzo un tema a noi in Europa in generale nelle istituzioni molto caro ovvero il problema della coesione sociale quindi di questa forchetta tra i gruppi della società invece che ridursi si sta sempre di più allargando per quanto riguarda il primo punto l'individuo è evidente che quando parliamo di economia di politica di mobilità delle persone in primis pensiamo alle persone stesse agli individui non sono numeri sono persone che sono cresciute hanno studiato in un certo paese quindi anche quando cerchiamo di attrarre delle persone dei talenti in Europa o in qualsiasi altro paese del mondo dobbiamo sempre un po' pensare a questo triple win quindi a questo triangolo in cui il vincitore della migrazione non è solo il paese che riceve ma è anche il migrante stesso il potenziale migrante ed è anche il paese di origine quindi noi non possiamo pensare ad un processo in cui svuotiamo i paesi che inviano queste persone questo è anche un punto secondo me da tenere ben presente il secondo è il tema delle competenze fortunatamente negli studi che abbiamo condotto nei paesi in cui lavoriamo abbiamo fatto varie proiezioni economiche vari calcoli e abbiamo calcolato che in molti dei nostri paesi l'istruzione è ancora un fattore chiave di successo un calcolo di regressioni per esempio in Egitto abbiamo calcolato che le persone con un'istruzione terziaria quindi universitaria hanno ancora oggi 13 volte più possibilità di trovare un impiego rispetto ad altre persone con un livello di istruzione secondaria questo mi fa capire che nonostante in molti paesi si parli di disoccupazione dei laureati di mismatch di competenze come vi dicevo prima molti lavorano in mestieri che richiedono competenze minori comunque l'istruzione è ancora un elemento di base e poi che tipo di competenze io penso un po' ai tre gruppi penso al gruppo ad esempio se mi riferisco ai giovani a giovani che devono transitare dalla scuola come diceva prima Donatella al mercato del lavoro penso a quelle persone giovani e meno giovani che sono in impresa che stanno già lavorando che sono attivi nel mercato del lavoro e poi penso a quelli che magari in azienda ci stanno ma che sono in procinto di uscire da questa azienda perché il settore è in declino perché l'azienda è in declino per una serie di altre motivazioni o che addirittura sono disoccupati per tutte queste categorie ci sono ovviamente una necessità di sviluppare meglio di avere delle competenze tecniche in primis e quando parlo di competenze tecniche mi riferisco a competenze come dicevo prima digitali abbiamo una serie una lunga serie di mestieri che vengono richieste nei paesi in cui lavoriamo nei paesi dell'Unione Europea e anche oltre coding data analysis lettura dei dati social media manager eccetera potrei menzionarle molto in cui però le necessità cambiano come diceva prima ogni giorno e quindi che cosa si deve fare ci si deve aggiornare noi abbiamo condotto insieme alla nostra agenzia sorella Sedefop basata a Salonico in Grecia una inchiesta in cui abbiamo fatto appunto un'inchiesta su un grosso numero di lavoratori in tutti i paesi dell'Unione Europea in tutti i paesi dei Balcani e quello che è uscito da questa inchiesta che è un'inchiesta stratificata e quindi rappresentativa è che circa il 52% di lavoratori europei ha detto sì mi rendo conto di dover aggiornare le mie competenze soprattutto le mie competenze digitali ma poi quando abbiamo chiesto e quindi hai fatto qualche training negli ultimi 12 mesi ti sei aggiornato quelli che si sono aggiornati sono stati solamente un terzo ma la cosa più grave è che quelli che hanno detto sì ho bisogno di nuove competenze e sì mi sono aggiornato sono quelli che già hanno competenze elevate quelli che invece hanno delle competenze meno meno alte quindi che sono low skilled con basse competenze non si rendono neppure conto di questa necessità e quindi di conseguenza non fanno formazione non fanno training quindi all'interno dell'azienda all'interno di una fabbrica in qualsiasi settore economico invece che trattare la digitalizzazione come un'opportunità senza un intervento mirato si rischia veramente di allargare la dicotomia tutto è accessibile la formazione l'upskilling il reskilling per un gruppo ristretto tutti gli altri rimangono senza nulla e questo è molto grave e questa transizione di cui noi tanto parliamo non sarà una transizione equa a meno che non ci siano delle politiche forti a livello istituzionale ma anche a livello di impresa in cui questo upskilling e reskilling diventa veramente un upskilling e un reskilling democratico per tutti a tutti i livelli un'ultimissima cosa e chiudo è stata menzionata questa mattina due punti molto importanti le soft skills quelle sono ovviamente richieste con qualsiasi imprenditore si parla chiunque dice teamwork communication time management eccetera ma soprattutto l'apprendere l'imparare ad imparare il learning learning to learn in un mondo che cambia potrei dire quasi giornalmente se io dovessi dare un consiglio ai giovani è proprio quello di attrezzarsi con strumenti che possa consentire loro di aggiornare costantemente queste competenze la formazione non è mai finita questo è diciamo è una regola per andare avanti non occorre che organizzino corsi bisogna che ciascuno di noi sia come dire aperto a evolvere mentre con Marco Bentivoglio volevo parlare a partire dal titolo del suo ultimo libro che perché non è solo la parte di chi cerca lavoro ma anche l'organizzazione delle imprese il titolo licenziamo i padroni mi pare che sia anche un atto di accusa per quel che riguarda la classe dirigente nel come viene organizzato il mondo dell'impresa ecco come è nato questo titolo e quale suggerimenti dà dalla parte alta diciamo del lavoro ma innanzitutto è un libro sul potere e su come si sfrutta tra molte virgolette l'occasione di gestire ruoli di responsabilità io apro il libro dicendo che è in qualche modo chi risponde alla prima domanda che ci si fa se ciò che faccio è ciò che è giusto senza farsi mai o almeno almeno ogni tanto la seconda mi converrà e cioè in qualche caso e in troppi casi ultimamente io sto accensendo le reazioni degli amici imprenditori che ho anche perché il libro non è sugli imprenditori gli imprenditori ce ne vorrebbero di più in Italia di quelli soprattutto che hanno visione è un libro sull'affezione a una certa postura di direzione dell'azienda che non ha proprio più nessun senso e dicevo sto accensendo i vari imprenditori che conosco quelli che si arrabbiano e dicono Marco ma tu che hai fatto gli accordi con Marchionne parli di padrone faccio scusa perché tu ti senti padrone dei tuoi dipendenti ah no 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 capite c'è ancora un'affezione a quest'aspetto del possesso dei propri dipendenti che è preistoria è qualche cosa che non ha nessun tipo di correlazione di significato e tra l'altro fa molto male e invece una parte di imprenditori e imprenditrici che dicono era ora perché io questa cosa di avere accanto il fatto dell'imprenditore anche il nomignolo padrone è insopportabile per cui bisogna il libro spinge a fare un salto e un abbandono anche di quel tipo di lessico io identifico quattro atteggiamenti e non mi riferisco ai vecchi padroni delle ferriere si dicevano una volta mi riferisco al nuovo paternalismo che si applica con forme molto più insidiose anche da nuovissimi manager che utilizzano molte maschere di questa forma di controllo identifico quattro aspetti ne parlavo prima la fiducia ancora nel paradigma del controllo che non funziona più è dannosa cioè quello che pensa che se uno timbra il cartellino e muova le dita dietro un computer è produttivo va mandato via io ho scritto a proposito dei capi del personale l'avevo già scritto su Repubblica facendomi altri amici dicendo se il capo del personale deve controllare le persone licenziatelo e prendete un cane pastore perché se serve solo il controllo e non la crescita della persona la capacità di condivisione di metterli insieme un cane pastore costa molto meno e dà meno problemi non deve fare business school non ci rompe le scatole con gli inglesismi di oggi la seconda cosa è la mediocrazia non so se avete seguito il lavoro di Alain De Nol questo sociologo canadese che dice in quest'epoca in questa fase della storia dell'umanità accade troppo frequentemente di ritrovare in posizioni chiave dei mediocri e questo è un problema perché non riguarda l'impresa riguarda un po' tutto il gruppo dirigente si abbassa il livello dello scontro il mediocre incontra riconosce immediatamente quello anche lui è come un cane da tartufo riconosce l'altro mediocre con cui coalizzarsi soprattutto con tutte le leadership contro tutte le leadership trasformative e per cui questo è un guaio perché nel nostro paese abbiamo demonizzato la meritocrazia perché era una trappola la meritocrazia in Italia a condizioni di partenza diverse non si può fissare un traguardo di valutazione uguale tra condizioni di partenza diverse ma siamo finiti a demonizzare anche l'impegno il valore la fatica l'esperienza il coraggio cioè le virtù sono quasi diventate un problema e quello che si sta esaltando io lo dico è il dirigente con la postura del sughero il galleggiatore quello che non crea problemi a nessuno ma è inesistente il suo contributo dice sempre di sì sostanzialmente il terzo elemento è un fortissimo narcisismo senile che cosa voglio dire che la gaussiana del narcisismo dopo i 60 iniziava a scendere una volta uno faceva i conti con la biologia e diceva adesso questa cosa del culto dell'immagine deve un po' iniziare a rallentare adesso è diventata una logaritmica ci sono dei novantenni che rivendicano nomine in posti di rilievo addirittura su compiti penso alla commissione degli algoritmi che se non li nominano considerano quella una vigliaccata capite i social ci danno questa illusione di eternità che è pericolosa perché siamo già una gerontocrazia in Italia rischiamo di consolidarci ulteriormente e per cui questi diversi elementi fanno sì che in un momento in cui le leadership aziendali sono fondamentali come quelle politiche quelle sindacali quelle istituzionali chi interpreta questa fase non come una grande capacità di mettersi in campo in gioco in discussione fa dei danni veramente che pagheremo in tanti decenni perché oggi bisogna puntare veramente sulle persone non nei convegni io a proposito di quello che si diceva poco fa dico bisogna tassare l'ignoranza che cosa significa nulla di riferimento alla politica nel senso che bisogna tassare le aziende che non aggiornano costantemente per le loro persone perché emettono sostanzialmente immettono nel sistema esternalità negative e per cui bisogna tassarle esattamente come chi emette CO2 anidride carbonica il diritto delle persone non è al salario è il diritto a fare un pezzo di lavoro insieme su cui chiedere responsabilità e risultati ma è anche il diritto dovere di crescere insieme come vedete in questa trip advisory informale su come si sta in azienda le varie survey che facciamo spesso non arrivano a dire ma nel passaparola tra le persone dove si cresce e dove invece si resta fermi ce lo si racconta e questo è un elemento di attrazione io per quello dico licenziate i padroni tutti quelli che se ne sono andati accettando un stipendio più basso ma un clima migliore un posto in cui il tempo di vita e di lavoro è più in equilibrio di fatto hanno licenziato i loro padroni quelli che hanno avuto meno coraggio di licenziarsi si sono messi come gli opossum in quiet quitting fanno il minimo indispensabile si fingono morti pur di non essere licenziati ma in realtà è un altro modo di leggere il libro intanto mi ripropongo di leggere il libro perché devo dire che ci sono diversi spunti spunti interessanti a Donatella Pinto invece chiedo a Brucia Pelo ma nei giovani di oggi a che in classifica a che posizione occupa il lavoro perché mi sembra che col passare degli anni sia un attimo come dire abbia perso qualche posizione e non è detto che sia sbagliato perché noi voglio dire si parte da uno che vive solo per il lavoro non è neanche quella una vita come dire serena però non è che abbia perso un po' troppe posizioni chiedo per un amico ma allora è chiaro non lo dico io lo dicono tutte le indagini e quello che ricercono i giovani adesso è l'equilibrio l'equilibrio tra la vita personale e il lavoro noi spesso abbiamo rinunciato a questo equilibrio quando eravamo più giovani talvolta lo facciamo anche adesso tendiamo a privilegiare il lavoro rispetto alla vita personale non vorrei che però cadesse troppo contrario nel senso che il lavoro serve molto all'evoluzione delle persone serve molto alla maturazione l'espressione di se stessi secondo me è un aspetto fondamentale non è sempre detto che lo si faccia solo nella vita personale questo ma anche sul lavoro io credo che da questo punto di vista i giovani debbano ritrovare un po' di amore di più per il lavoro che un po' lo dobbiamo fare anche noi perché secondo me non è che li stiamo proprio aiutando spesso magari non li paghiamo tanto li paghiamo poco non li valorizziamo non stimoliamo la meritocrazia mi ritrovo tantissimo su quello che dice lui è chiaro che per lavorare occorre spendersi impegnarsi e avere voglia e avere quella passione per fare le cose su questo secondo me la scuola ha il suo ruolo perché secondo me la scuola deve accendere questa passione cioè la scuola deve creare persone curiose che hanno voglia di mettersi in discussione che hanno voglia di guardarsi attorno non che stiano lì a subire delle teorie e non vivere se stessi anche perché in realtà e parliamo della competenza del futuro è quello che viene chiesto di essere se stessi nelle aziende che hanno licenziati padroni e molto spesso e sono tante fortunatamente sono tante il fatto di stare in azienda come si è è un valore e per le persone è un valore lo stesso quando ho iniziato a lavorare in azienda trovavo nel personale trovavo che le persone spesso si svitassero la testa che avevano fuori ne mettevano un'altra stavano in azienda poi riuscivano adesso fortunatamente questo succede sempre di meno e sempre di meno è richiesto di essere così è richiesto di essere se stessi quindi per rispondere non brevemente ma alla domanda io credo che noi dobbiamo creare quella passione per il lavoro per il lavorare esprimendosi che sia un lavoro proprio che sia un lavoro in azienda e dobbiamo farlo noi perché da solo i giovani in questo momento sono un po' persi forse la scuola dovrebbe aiutarli di più a capire cosa piace loro secondo me molto spesso vedo dei giovani che non hanno delle idee chiarissime su quello che vorrebbero fare devo dire che questo però anche su questo allora io non credo che debba aiutare a capire cosa piace cosa piace è di uno trovare da soli cioè io sono uscito dalla scuola volendo fare un lavoro ne ho incontrato un altro mi piace molto di più quello che faccio rispetto a quello che volevo fare io credo che debba aiutarli a essere giustamente critici giustamente interessati giustamente a non avere paura di esporsi a non cercare quello che è perfetto perché tanto non si trova quello che è perfetto ma si trovano solo delle esperienze da cui si può imparare e questo è quello che mi insieme alla scuola purtroppo non spesso succede questo Gianluca fammi una rapida classifica degli ITS quali sono quelli più gettonati e quelli diciamo visto dal tuo sempre osservatorio che è giornalisticamente attendibile e aggiornato allora questa è una domanda difficilissima perché comunque ogni ITS ci tiene ad essere un esempio di eccellenza per il proprio territorio ed è anche complesso fare una vera graduatoria soprattutto a livello nazionale perché dentro al cappello degli ITS a questo format formativo ci sono realtà che sono anche molto diverse fra loro tanto per citare qualche esempio ci sono gli ITS che parlano di scienze della vita ci sono gli ITS che parlano di moda ci sono gli ITS che si occupano di mobilità ci sono i ITS che sono in collaborazione con porti marina mercantile e quindi guardano al mondo del mare quindi è un po' difficile fare diciamo una vera e propria graduatoria sicuramente ogni città il suo prediletto ogni città e ogni distretto non a caso le fondazioni ITS nascono spesso laddove c'è già un polo industriale produttivo forte che ha bisogno ovviamente di competenze di persone da portare a bordo nell'ecosistema ITS c'è un grande valore anche della dimensione regionale nel senso che sia per ragioni di carattere proprio amministrativo procedurale sia per l'organismo ITS la scala della regione è un po' quella più rappresentativa e di nuovo qui ci sono regioni che hanno investito hanno creduto negli ITS fin dalla loro prima fondazione quindi andiamo indietro di 13 anni il Veneto visto anche dove ci troviamo è stata una delle regioni che fin da subito ha creduto in questo sistema e attualmente ha 8 ITS vicini di casa del Veneto anche la Lombardia è una delle regioni che da subito ha investito ma ce ne sono moltissime altre al centro pensiamo per esempio al Lazio ma anche verso sud alla Campania alla Puglia che sono regioni dove anche quantitativamente gli ITS sono tanti poi c'è effettivamente una classifica e una graduatoria perché c'è un sistema di premialità con gli ITS legato anche poi ad alcuni finanziamenti che sono regolati attraverso alcuni parametri e di questo si occupa in dire che è l'agenzia italiana collegata al ministero che si occupa di monitorare l'esistente e di capire un po' che cosa c'è dentro do un dato che vale però per tutti gli ITS trasversalmente che è quello relativo all'occupazione nel senso che un po' partono avvantaggiati nel senso che già nascono dove il bisogno c'è però va detto che in uscita dagli ITS l'occupazione e in particolare l'occupazione coerente con il tipo di percorso è altissimo che vuol dire almeno l'80% ma ci sono tantissimi istituti che hanno il 100% netto o al limite hanno qualche caso isolato di uscita ma di fatto tutte le persone che ottengono il diploma o anche addirittura come si diceva prima di ottenere il diploma riescono a entrare in azienda trovo molto interessante anche che con la riforma dell'anno scorso sia stato introdotto un sistema appunto come dicevo di premialità che guarda ad alcuni parametri oggettivi quindi per esempio la presenza di formatori che vengono dal mondo delle imprese che quindi conoscono già il mondo dove i ragazzi dovranno inserirsi anche il modo in cui vengono selezionate le persone perché uno dei grandi temi di attrattività è avere più candidati dei posti disponibili in modo che proprio per qualificarsi come sistemi di eccellenza si possa in qualche modo creare una competizione positiva diciamo così tra le persone in ingresso in modo che i più motivati siano quelli che entrano in questo ecosistema poi siamo tutti un po' all'occhio a vedere come sta evolvendo perché le dinamiche di oggi sono molto diverse rispetto a quelli di due anni fa e insomma anche chi se ne occupa a livello politico sta credendo molto in questo caso da parte di tutti gli schieramenti perché ci hanno lavorato l'uno e l'altro governo per citare i più recenti investendo in questo sistema e anche comunicando molto su questa prospettiva grazie Gianluca Nicola ti faccio chiudere facci qualche esempio delle richieste più innovative che ti arriva dalla clientela in questo momento e dall'altra parte dalle proposte tu che facciamo come marketing digitale cosa sta andando in un settore in continua evoluzione giusto per capire proprio l'innovazione che è la tua materia prima quotidiana è una bella domanda Marino io credo che le richieste che ci arrivano dalle aziende sono sempre più richieste sui risultati non sui servizi o sui prodotti le aziende si aspettano di poter comunicare sempre di più e sempre meglio ma non sempre hanno le idee chiare di quali possano essere gli strumenti e quindi il nostro lavoro sempre di più deve essere quello di essere eccezionali musicisti nel saper suonare singoli strumenti ma anche e soprattutto essere eccezionali direttori d'orchestra la comunicazione digitale si è mostruosamente frammentata esistono migliaia e migliaia di canali utilizzabili le aziende hanno bisogni hanno bisogni di vendita di contatti di crescita di assunzioni i bisogni sono infiniti dove dobbiamo cercare di essere bravi e quindi non so darti una risposta specifica perché quel percorso è sempre diverso ed è proprio un percorso in cui tanti strumenti diversi devono essere combinati devono essere incastrati e quindi per questo collegandomi ad altre cose che sono state dette oggi credo che il nostro ruolo e chi lavora in questo mondo debba sempre essere di più un mondo di competenze che hanno la forma di una T si parla molto di T-shaped marketers quindi di di competenze che hanno una linea orizzontale molto trasversale fatta di conoscenze in tanti settori diversi e in tanti ambiti diversi della comunicazione che sappiano svilupparsi con grande qualità in una verticale molto precisa perché poi appunto servono i violoncellisti servono tutti quanti i musicisti ma questa visione orizzontale questa capacità di saper imparare saper ispirarsi e saper traslare da una parte all'altra credo sia vitale io spero che quello che sto per dire non verrà un giorno usato contro di me ma in questo lavoro sono un grosso sostenitore del furto e non inteso come furto appropriativo quindi non come furto come appropriazione indebita di idee altrui ma furto come miccia per l'ispirazione oggi quello che cerchiamo di fare in agenzia è di imparare su un progetto di lead generation per un cliente che si occupa di magazzini verticali e automatici e portarlo sulla vendita dell'amarone che è una cosa che sembra agli antipodi ma questo tipo di trasversalità e questo tipo di creatività credo sia davvero la chiave del futuro di questo lavoro grazie Nicola grazie devo dire siamo stati gli ultimi ma credo che sia stato volato perché è stato un argomento molto interessante quando tocchiamo il tema del lavoro devo dire è sempre molto molto interessante e molto in evoluzione ecco io credo spero che tutti quelli che hanno ascoltato escano da qui con la convinzione ero partito con la lettura di un brano sussunto dall'intelligenza artificiale quindi non frutto del mio lavoro ma esco di qui convinto che comunque sarà sempre l'uomo al centro del lavoro con tutta l'intelligenza artificiale che c'è grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie buona serata direttore grazie al direttore Marino Smidler grazie a tutti voi siamo giunti alla conclusione di questa di questa giornata la prima di tre giornate di festival del futuro di questa quinta edizione Paola l'abbiamo ascoltato abbiamo visto tanti contenuti si può finire parlando proprio del lavoro è molto stimolante perché comunque ci dà un'idea che il mondo cambia ma cambiano anche tante le opportunità e quindi c'è speranza perché il futuro riserva sempre qualche bella sorpresa anche fortunatamente e tanti altri argomenti di cui parleremo naturalmente domani e dopo domani ma facciamo un po' sintesi di come è andata oggi e quindi invitiamo a raggiungerci sul palco Luigi Consiglio presidente fondatore di eccellenze di impresa grazie grazie allora un mini bilancio ma soprattutto per dirvi che oggi i contenuti per chi ci ha seguito da stamattina sono stati estremamente importanti anche per me nel senso che sono rimasto fortemente colpito volevo dirvi che domani la giornata non sarà da meno cominciamo alle nove e quindi puntuali per chi è interessato e la concluderemo con Scaroni domani sera che è l'apice per poi continuare con i fuochi d'artificio sabato mattina che saranno molto superiori allora ringrazio tutti per la presenza per essere stati con noi fino a quest'ora e ci vediamo domani mattina eh sì nel ringraziare ovviamente tutti ci sono i doverosi ringraziamenti poi ovviamente a chi ci ha permesso di essere qua oggi domani e dopo domani e quindi iniziamo con i ringraziamenti ai partner istituzionali che sono Confindustria Verona Confindustria Vicenza e Confindustria Brescia mail partner del Festival Passificio Rana Platinum partner Cattolica Generale Italia e Banca PicTet Gold partner Banco BPM Fondazione Cari Verona nel nostro gioco di squadra hanno contribuito anche i silver partner Barilla Camozzi Group Fastweb e Man Track & Bus Italia supporting partner ACS Data Systems AGSM AIM Novatec e Piramide Engineering Grazie a Burro e Salvia Banketing Digital Partner Zip Agency Media Partner Agenzia Ansa Un attimo dobbiamo ringraziare anche abbiamo il patrocino della presidenza del consiglio Assolutamente abbiamo ricordato in apertura e della commissione europea che giustamente sono anche loro da citare che direi anche che per il quinto anno su Gello insomma un risultato un traguardo importantissimo vuol dire che si è solidi che è il nostro partner Perfetto abbiamo fatto tutti ringraziamenti naturalmente a tutti coloro che ci permettono di andare in onda e chi lavora questa macchina organizzativa che ovviamente non inizia il giorno prima ma molto tempo prima e anche continua alla chiusura quindi ci vediamo domani E grazie a voi Grazie Ciao domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti